Ragazzi, prima di lasciarvi allo speciale di Halloween, volevo ringraziare tantissimo Rosso, che ha collaborato a questo speciale, anche se ha debito a distanza, e Roma, che mi ha fatto in tutta fretta Mega Man Domenica, l'ho già fatto uscire nel video di ieri, quello sono stupido, Mega Master Force, anche se, come ho già detto, mi sono dimenticato di farlo uscire, e per domenica quindi uscirà mercoledì al posto della Nanzlock, e la Nanzlock penso uscirà venerdì. Mi scuso ancora per la qualità di questo horror, che, come vi ho già detto, registrando era uscita perfetta, il gioco era fluidissimo, e invece montando il tutto non si sa perché, già la registrazione risulta danneggiata, e quindi si frizza, e l'horror è comunque, anche se io lo insulterò parecchio verso la fine per colpa del platform che hanno messo, è molto interessante a livello di meccanica, punta molto sull'ansia, e per questo è uscito così lungo. Il video è di 30 minuti, non perché io non ho fatto abbastanza tagli, ma perché il gioco si basa sull'ansia, tagliare troppo e mettere su di jumpscare non renderebbe la stessa idea del gioco. Noi comunque ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Mi ha fatto apposta. Che cosa? Ma guarda. Sono dei pezzi, sono passati, dovrei essere impiccato in questo campo. Vabbè, ma quelli sono dei tagli, non vedi anche... No ragazzi, vi giuro. No però, allora, ti stronzo dentro, safe. C'era signora, te la sei andata a cercare, te la sei andata a cercare. C'era una testa. Bene ragazzi, io sono il Ghesus, qui in parte il match è rosso, che non volevo prendere parte a questa cosa, posso capirlo. E oggi siamo in un oro, siamo su Mainz Ice, gli occhi delle menti, in teoria. Beh, credo di sì, Mainz non... Credo di sì, perfetto. Premi uno per giocare. Porca puttana, cielo alto volo io, faffanculo. Ma no, era solo a 76. Quella 76, lasciamo a 76. Faffanculo. Questo gioco contiene luci con flash, se il flash ti è... Sì, ho una condizione mitica per cui il flash, quindi ciao, speciale di Halloween a Faffanculo. Eh, oddio che ho fatto. Comunque, questo è lo speciale di Halloween, come avete sicuramente visto il video prima di questo, che è quella porcata che ho fatto in mezz'oretta, perché non sapevo cosa fare. E non sapevo se sarei riuscito a fare un video, per sì, le cuffie ce le ho, per Halloween. Invece alla fine ce l'abbiamo fatta a fare sto video, mamma mia. Eh, tolto il dente, tolto il dolore. Non partire, ti prego, non partire. Sì, le mie preghiere sono esaudite. Santissimo Pado, prego per me. Dai, fai partire questo gioco. Questo gioco. Non partire davvero, ragazzi, ho rotto il gioco. Il mio computer. No, cazzo, è partito, wake up. Pado mi ha ascoltato. È troppo alto il volume. È a basso. C'è sento l'eco, o c'è sento l'eco lui, forse? No, sinceramente. Perché non mi sto svegliando, non lo so. Eh, sono svegliato. Il quadro è mai quello. Sapete cosa vi dico, ho cambiato futtutamente idea. E questa è sempre la stessa foto. Cioè, queste sono due foto uguali. E questo è uno zoom della foto, perciò. No, 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 ciao, ciao, ciao. Me ne vado, fanculo. Ciao. C'è l'interruttore che brillino il buio. Come? Quella porta era aperta. No, sì. Sì, era aperta quella porta, non giuro. Torna a dormire, torna a dormire. No, 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 no. Perché gli muovo con un mongo plastico? Perché sei un mongo plastico? Guarda il letto. Ma come, come ho? Il letto più credibile del lui. Ma perché ero salito sul letto poi? Come avevo fatto io a salire sul letto? Il tasto di salto c'è. Perché spingi? No, 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 no C'è nessuno, c'è un caso di interruttore Non volevo chiudere Cos'è successo? C'è bisogno Vuoi prenderle? No, perché mi dicono che possono tagliare attraverso le catene Quindi? Quindi non è un buon segno Tu vivi in una casa con le catene? No, era acceso Ma l'obiettivo è? Ecco, non ci vedo C'è il riflesso della luce che mi cieca Cos'è sta cosa? Un pannello di compensato Non mi ricordo neanche che questo fosse qui E ti credo C'è un pannello di compensato in casa Cioè non ha senso effettivamente Cos'è? Un orso? Un cane? Ancora questa foto? Abbiamo capito che ti piace la mo' Cos'è? Cos'è Marces? I fiammiferi Dove li tieni quei fiammiferi? Non lo so Chi cazzo ha spento la luce? Perché non posso usare le luci? Ti ricordi dell'accesoio di prima? Tagliato tutto Potevano però almeno mettere un fiammifero Che si vedesse Perché sembra che la luce ti esca Perché non funzionano più le luci? Questo funziona Fanculo Dovete fontare C'è che devi interagire con quello Se l'ho sentita fino a qua Tanto so che devo andare di qua Quindi ci vado allo station Guarda è 3, 2, 1 Da dietro Da dietro Mi giro? Gira la porta Un cazzo? Ci sono ancora tutti i quadri Strano Perché è un classico Le sedie impilate negli horror? Questa è la chiusa? Sì? Sei in casa tua E hai le porte chiuse Perché? Perché sono stronzo Aiutami Gesù! È scappato Hai visto? Non me lo sono immaginato Non ho visto Ciao Sì 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 Tu guarda Non c'è premier per tornartene in quel Cazzo Paesi duveri Non può interagire con le sedie? Non può interagire con le sedie e rimettere a posto Magari come sono accese le luci Anciso finire Eh Ecco esce di casa Vai fuori Qualcuno faccia qualcosa Perché è questa cosa? una cosa con una lampa da su una lampa da su io giuro che non so leggere il cinese io non so leggere perché c'è tipo la qualità la qualità sentite io ho fatto passare tutto a casa c'è quel bellissimo quadro di joker confirm lo sapevo come lo sapevo io no vattene a quel di paese ma non hai fatto caso è impossibile sta cosa perchè prima perchè prima non c'era niente che ho tirato sull'interruttore e adesso come che c'è no ero la sentenza morte è una porta nascosta è solo una parete fatta male questo cosa non me lo posso prendere che tanto no l'hai detto prima ma ma posso dire no no correre no ah no si può le gioie ma anche se se corre ti stupra comunque eeeh sveglia cosa ci vuole uscire di casa chiamarla polizia no evidentemente un'intelligenza così rara che ma tu scendi qui tanto a me allora sentite ci sarà qualcosa da fare ci sarà qualcosa da fare io mi preparo sono prevede si pannello di compensato bello il pannello di compensato ma è utile no 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 hai provato tipo tutto vabbè ragazzi io mi chiedo in una stanza mi siede in un angolo ti piace scrivete vabbè no vabbè ci sarà qualcosa ci ho provato tutto prova vai nell'altra stanza da ogni quella da ogni quella quella dritta dritta allora fai passare qualunque angolo io ho sentito qualcosa e anch'io l'ho sentito da qua è grave è grave è quella cosa lì ma quel libro lì ah ma potevo accendere questa luce sono incretinito cioè non ci sono ah no della serie prendiamo prendiamolo Deos VUL Deos VUL Deos VUL Deos VUL Deos VUL avete mai visto quel video? si no? e anch'io sei impazzito Deos VUL Deos VUL c'è il soffitto basso non riesco a saltare sai che le persone normali solito non saltano eh perché la crede cioè mi sembra rotta si no la credenza è effettivamente rotta era rotta anche prima eh una lampada lamp... no no 0 0 0 troppo scontato 0 0 0 0 ti ricordi l'obietto di prima? e se c'è scritta la combinazione non possiamo leggerla? giuro dove me nasconde una combinazione una lampada una lampada ehm aspetta a volte no 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 a volte che sa forte ma lampada dammi i numeri rispetto a lampada così i l tecnicamente 9 bene non siamo così intelligenti ehm pensavo lampa da lampa questo cosa c'è? e questa è della serie loop in film il gioco ci vogliono 45 minuti per finirlo perché non si trova una combinazione di figa o perché cadono quadri? ma il modo in cui è caduto mi è piaciuto eh tipo sono svenedo per me quella porta c'è dentro lì io devo dire che ho fatto? stai diventando il sordo vado o o qual è il tuo problema? i miei tippani e e e e e lo sento fino a qua e che è andato solo un occhio di riflesso e perché non ti inculi si son spente tutte le fottute luci e sono la porta, è casualmente aperta hai sparita la leva io mi nascondi nel tuo computer perchè io solo devo patire ti ho offerto la mia casa accetta la mia casa no te ne fai un cazzo vero quella porta sto dentro spavento spavento vento spavento lì davanti alla porta spavento infarto qualcosa ho riacceso tutto fa il culo mostro di merda appena trovi sto sempre pronto sempre allerta soldato sempre allerta l'ansia funziona funziona si bene ci è spento tutto però non sappiamo ancora cazzo perché no ma perché sei nato che puttano u 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 vedi che è uno stanzino in cui viene rinchiuso sii e tu casa tua hai sotto casa tua hai un cazzo di sotterraneo con delle scale mobili no il senso di quel cornicione qualcuno cornicione non lo so ringhiera qualcuno me lo spieghi no davvero come se uno dovesse reggersi delle scale che macchina ci passa che bella ambientazione i fiorellini sulle palle io vedo no 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 ehi tua madre tua madre lo dici a tua madre aia va tu aia va tu cos'è sta cosa perchè io sotto casa mia ho l'esercito della nasa nucleare sotto casa di algini se ci provi sei ma segreti nucleari cercasi davvero tu guarda no 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 si è bagato del muro no adesso che che sia buio perché non vai e te lo infili non mi piace cos'è quella Laura rossa Columbus si è pagano questo gioco no 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 Sono bloccato, ciao, sono morto Vado a controllare il telefono Se sei sfrotto Dai i messaggi su whatsapp per rispondere a tutti Ciao No, 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 come corre male poi Il ritorno a tutti Eh, guardalo, guardalo Cos'è successo? È bellissimo Non è vero Guardalo Guardalo È solo il gusto di farti stuprare No, mi sa che ce la provo con te Si e poi Di questa quattro No, ragazzi sentite Che è È una cosa Non infattibile di più Ah Quindi puoi morire Mi salva Beh allora è fatta Beh allora ciao Com'è? Che lup è? E dove sei finito? Pdpc Sono così svantulato che non mi trovo Ha capito su quel uovo Ha capito tutto della vita Eeeh Non è più un oro sta cosa È una barzelletta No sta arrivando No sta arrivando No sta arrivando No Si 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 ha fatto tutto di 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 Si ha fatto tutto di Si ha fatto tutto di Guarda Aperto Sii Si Si è finito Si è tornato in casa a dormire Era tutto un sogno Si No Perché adesso ti stupro di nuovo Stupro Ok Sembra quando entro in classe io Senti Stupro E succede Succede davvero Ah no non è finito il gioco Per il semplice fatto che devo usare ancora le tenaglie del Cazzo Tenaglie La combinazione Gesù La porta bloccata Il cutter Si il cutter Sembra bloccata Giuro che se me li devo rifare ancora tutto il bordello che ho fatto giù C'è spacco tutto Spacco tutto Spacco bottiglia Ammazzo famiglia Hulk Spacco Spacco Perché mi fanno fare stile Ma non mi pensi che il quadro è cambiato Si questo quadro qua è cambiato Che non era così E c'è ancora la musica del cazzo Perché le texture da questa prospettiva mi sembrano blu Ho questo prospettivo Non lo so Tipo vedo blu Oh Perché la musica va aumentando Come lo squaluta Mi stanno esplodendo tutte le luci di casa Adesso stanno addirittura esplodendo Non si stanno spegnendo Si si ma le stanno facendo esplodere tutti i figli di put***e Bambini molesti dai miei tempi non si faceva così E' davvero mio nonno Mio nonno Cioè ho sentito un rumore che era al di là dell'orribile Ovvero Io cerco di cavarmi un occhio col tuo computer posso? No 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 Come non posso? Eh me lo distrutto ma fai qui E tu? Che cazzo è quella roba lì? Quella cosa Un Krobar Cos'è un Krobar? E' il... come si chiamano? Un 5 Ma io posso prendere questa cosa? No, a Krobar! Risa Wither E' affaccato alla catena, ho capito Cosa? Devo premere un altro tasto che non so Devo premi Shift, Alta, F4, Q, G, Z, H Ah ma cazzo E ciao Devo far cadere un altro quadro in modo orribile? Tipo... Lo guardo intensamente e cade? Tipo si traccina verso il basso? Non ti penso Raramente Ah forse questo per tagliare la mano Vaffanculo In questo taglio la catena no? Oh Provento infarto qualcosa? Niente Sto provando la mia data signor Quindi... Non ti guarderò qui Stai provando Se sei falso Si lo so E ho Krobar adesso posso andarmene giustamente Sulla cassaforte No Cosa ti... Il compensato 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 Compensiamo Compensiamo il fatto che non si può spostare Mi è caduto in faccia Mi è caduto in faccia Beh ho tranti Krobar adesso No Sono tutti uncini Cosa sono uncini? Si sono uncini Si sono uncini Quindi se ci deve entrare Salve signor uncino Hai presa la chiave? Si l'ho presa Guarda tanto mi stuprono adesso Eh proprio sbarrate Dov'è? Signor mostro Quando mi stupro un po' Mi manca Lo voglio bene Qual è? Ah per cosa serve la chiave? Ma l'hai presa? Si Si ti giuro l'ho presa L'ho sentito il intelligente Ti giuro non c'è più niente quella si? No Mi impicco Mi impicco Mi hanno spento tutte le voci Forse ora funziona Ho sentito un brutto rumore Non funziona neanche più oggi Abbiamo interrotto Per errori vari Stiamo girando come dei cretini Per questa casa del cazzo Con una chiave Una chiave Una chiave con cui non ci posso fare assolutamente Niente Istruzioni con la chiave Prendi la chiave e metti la su pericolo Probabile E' molto più utile così Ancora sta noto Cosa la riguarda Siediti e lasciati che ti stupino Potrebbe essere un'opzione I bug Secondo me non è un bug Non è proprio così Che cosa ma guarda Dovrei essere impiccato Vabbè ma quelli sono dettagli No ragazzi vi giuro Però allora Ti stronzo dentro C'era una testa C'era una testa Ti giuro che c'è una testa Tu dove ti sei adesso Tanto compensato Scegno Ah sono nella stanza Che era bloccata Perché? Perché sua madre è puttana Io ho ancora quella chiave Ma aspetta Indagliamo un attimo nella stanza Per me c'è il codice Per la cosa Vedo dei nomi No io l'ho già scritto Just 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 Can I Posso zoomare Non ho fatto i psichici Questi Nota inutile Veramente Non è Tanto i numeri su me Eh ce l'ho scritto Abbiamo cambiato quadro Sì Salve lei Sempre è una bella persona Questa secondo lui E non c'è acceso Sì Certo Lui pensa anche Che sua madre non sia una puttana Però Non vanno neanche i fiammissimi Guarda È finito probabilmente No non puoi finire fino a un minuto nè Almeno C'è una scatola E ora altre ore ti fanno capo Un taggio vuoto Perfetto Che bello horror Proprio Cioè ti viene Ma non è male Perché ti metti ansia Ti vuol dire Quando mi stupra Quando mi stupra Quando mi vengo stuprato È sicuro che non sia lo stupratore Scusa ma questa porta Dove cazzo viene? Questa Quella non c'era Compare porta selvatica Cioè io ero nella stanza Ti ricordi che era la stanza Che era in parte a me? Sì Perché ho detto Ah guarda Era la porta che era bloccata Da cui sono uscito Perché vedevo un letto Tipo lo vedevo Boh Devi andare YOLO Porta usa stupra È molto più efficace del previsto Ma fiammiferi No esplodono luci Cosa c'è dietro Una porta Jump Adesso mi dai questa grande abilità Che che? Che che? Ma c'è tutto? Si sta iniziando a svegliare Non è così? Le mie orecchie Si così Pecchio platform Ma Facciamo Dall'horror Fatitico Mi sto Spaccando I timpani Ok 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 Questa è la trova decisiva Non scivolato Non è scivolato E ora Qua cominciamo Quella strada Non esiste Quella non esiste Guarda Vai verso la luce Lo dice anche Dio La luce Ma di solito Ci sono luci finale La luce purifica Lo dice Ragnaros No 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 Perché? Non da capo Non da capo C'è da capo Questo non è un oro Questo è un agglomerato Di Di Merda Travi bianche patetiche Che sono Sembrano quelle Che ho usato per fare Casa mia Solo che le ho avanzate E le ho buttate Via Quindi loro Ha detto Un capelli travi Le mettiamo nel loro Si Vai Tutto Questo è la soluzione Simo E Simo E Un jackie point Io Madonna E Un jackie point Ma stavo realizzando Che era diversa Da quella Dell'inizio Devi fare La diagonale Verticalizza Simo Verticalizza Porca patata Ci sono fitto Abbiamo scoperto C'è una striscia bianca Dio E' caduto Dio è caduto E' chiamato Con il giusto Presse Premiè per ottenere la conoscenza E fu così che nacque Albert Einstein Per ottenere la conoscenza Tom 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 Non hai niente di quello che sta per arrivare? No! No! Un altro plazzo? Cos'era la cassaforte? Cosa c'era nell'altra? Via! Cosa? Che cosa c'era alla fine che c'era così peggio di quello che stava per arrivare? Quattro plazzo? E' proprio la disperazione Cicci! Guarda! Cicci! 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 Il bambino! Così c'era la testa Ok Ok Cicci! 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 Ah! Ah! Allora! Una merda! No! Si! Forse! 40 minuti! Molto 42 volte! Dove li trovavano gli ursetti? Per me erano tutti i quadri della cassaforte! Per oggi è tutto, per questo speciale è tutto, da me e da Rosso è tutto! Quindi se vi lasciate un commento che mi piace iscrivetevi, voglio 20 iscritti solo per il platform, perché ci voleva un'abilità grandissima a guardare le trame di un masso! Cioè muori meno e te lo lasci finito! Io l'ho provato, l'ho anche finito! E noi quindi ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Bella ragazzi! Sono distrutto mentalmente, fisicamente e uncinamente! Platformamente!